A Sassari c'è un nuovo spazio di co-working per aziende, imprenditori e studenti che vogliono sperimentare nell'ambito dell'artigianato artistico. Ce ne parla Nicola Accarto. Un nuovo spazio di co-working per aziende, imprenditori e studenti che vogliono sperimentare nell'ambito dell'artigianato artistico. A loro disposizione le sei stampanti tridimensionali dello spazio Art Lab, finanziato grazie a un bando europeo che già sta aiutando dieci aziende sarde selezionate e seguite dall'Accademia. Verrà aggiunto anche un braccio meccanico per oggetti di grandi dimensioni. Orificerie, sartorie e ceramisti possono qui realizzare i loro prototipi in resina e in termoplastica. Presto ci sarà un nuovo bando per accogliere altre aziende, ma di questo centro risorse potranno usufruire anche studenti e semplici cittadini, con una simbolica quota annuale di adesione. Gli studenti hanno la possibilità di sperimentare e di lavorare anche insieme alle aziende, in modo tale che alcuni di loro possono essere anche assunti durante il loro corso di studi. Il nostro centro risorse ha un po' l'obiettivo di essere un punto di riferimento per tutte quelle aziende che vogliono fare un percorso di innovazione e capire come i nuovi linguaggi della comunicazione e le nuove tecnologie possono aiutarle nella produzione e nella proposizione al mercato. Questa è l'Accademia di Belle Arti della Sardegna, non l'Accademia di Belle Arti di Sassari e basta. Quindi il servizio va a tutto il territorio della Sardegna.